Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del Crogiolo, ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o roccaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la Baia di Stellaris, mi sono recato personalmente nel mercato cittadino, dove mi è stato suggerito un prodotto che potrà suscitare l'interesse di ogni appassionato del TCG di One Piece. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio del Crogiolo. In questo episodio, il mercante consiglia la One Piece Car Game Gift Collection 2023. La scatola si presenterà con l'immagine di Luffy che cavalca un enorme cinghiale, con una finestra a sinistra che farà intravedere il deck box, incluso nel prodotto, i vari stemmi della casa produttrice e il titolo della collezione sulla parte frontale. Unicamente questi ultimi, riportati a chiare lettere su sfondo rosso, sia sulla parte superiore che ai lati destro e sinistro. E sempre lo stesso, questa volta però su sfondo blu, che accompagnerà anche il contenuto della scatola con tutte le informazioni legali del caso descritte sulla parte dorsale. Una volta aperta la confezione, al suo interno troverete il già menzionato deck box, che sulla linguetta di apertura raffigurerà le versioni alternative di Luffy Gear 4 a costo 7, Crocodile costo 8 e Doflamingo costo 10 sui fianchi sia destro che sinistro, di Vivi Secret sul dorso ed il titolo del TCG in questione sulla parte superiore dell'accessorio. La chiusura del deck box vedrà un semplice strap a velcro circolare, che una volta aperto vi farà accedere al contenuto del portamazzo, che vedrà la presenza inoltre di un divisore, che potrà tornarvi utile per dividere il vostro stesso deck dai don che utilizzerete in partita, raffigurante frontalmente rosinante Secret. In più saranno presenti i 5 booster pack del set Kingdom of Intrigue, il quarto capitolo di questo TCG, ed un promotion pack che conterrà 3 carte promo casualmente selezionate da un gruppo di 13 totali. Ora, dopo aver visto tutto ciò che potrete trovare dentro questo prodotto, volevo rispondere a tutti coloro che mi hanno chiesto se si trattasse di uno scam. Lo è? Parlando anche con chi mi ha fornito il prodotto, ovvero Luis, proprietario della fumetteria Loop Game, vi lascerò tutti i link in descrizione, si è arrivati alla conclusione che in realtà converrebbe più acquistare una singola confezione della Collection che 3, quasi 4 double pack, ma analizziamo a livello di costo ogni dettaglio. Il double pack verrà venduto ad un prezzo indicativo di 15€, mentre la Collection a 40. Nel primo prodotto, se vi siete persi il video dove ne ho parlato, lo troverete nella scheda appena apparsa in questo momento, ci saranno due pacchetti di OP04 più un don casuale su due disponibili. Sommando quindi ogni singolo elemento, il prezzo finale sarà di 13,50€, 14€ se riuscirete a trovare il don di rosinante. Mentre per la gift ci saranno il deck box che, valutandolo secondo stime comparative, avrà un costo simile ai prodotti della stessa categoria che si aggirano attorno ai 10€, 5 booster pack per un valore complessivo di 25€ e le 3 promo card che, l'una, hanno al momento un costo di 7€, per un totale di 56€. Ma c'è un ma, ho calcolato il tutto attraverso determinate condizioni, ovvero che sia i pack che il promo risultino assolutamente chiusi. Tenendo bene a mente che per quest'ultimo il prezzo attualmente è praticamente certo, infatti di minima ogni carta alternativa si trova sui 7€, per il booster la storia cambia. Aprendoli tutti e 5, infatti ho trovato solamente una sugar nel primo pacchetto, che in mercato vale 1,30€ circa, ed un crocodile costo 8 nel terzo, con un valore che uscilla dai, tenetevi forte, 20 e 30 centesimi. E quindi da come avete potuto capire, dopo la sbustata il valore dell'intero prodotto è crollato, perdendo la bellezza di 23,20€ che, sottratti ai precedenti 56, hanno stazionato il valore dell'intero prodotto a 32,80€. Attenzione però! Ha detto sfortuna a me. Mentre per chi ha condiviso la sua esperienza, molte sono state le sbustate fortunate. C'è chi ha trovato un leader o carte alternative, chi come per il sottoscritto non ha trovato nulla, e chi ha avuto la fortuna di scoprire un sabo manga. Quindi, come per ogni TCG che si rispetti, andrà come non vi aspetterete. E se ve lo aspetterete, non andrà come vi aspetterete. Quindi, dati i numeri alla mano, se prendiamo in esame il valore sigillato di un double pack e di una gift, quello di quest'ultimo sarà abbondantemente superiore al suo prezzo di vendita indicativo. Poi sarà tutto nel contenuto dei pacchetti. Ma come è per la collection, lo stesso varrà anche per il double. Detto ciò, mi sento di dire che no, non è una truffa, o scam, insomma, come volete dire. Anche se inizialmente l'ho creduto anche io, ma dato che abbiamo spulciato ogni singolo aspetto dell'articolo protagonista di questa puntata, mettendolo a paragone con un prodotto della stessa categoria, mi sento di consigliarlo caldamente ai novizi del gioco, che con il gift avranno una base di partenza per la costruzione del proprio deck preferito, molto valida, delle carte promo da rivendere per acquistare gli elementi che mancheranno al completamento dello stesso e un primo accessorio dove poterlo trasportare, mentre per i veterani starà a voi valutarne l'acquisto. Prima di concludere, come sempre in descrizione, vi lascerò tutti i link che vi torneranno utili per acquistare la vostra copia personale. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!